Valerio, ho avuto un incontro ravvicinato con un'amantide religiosa albina, bianca, tendente al bianco. Che cosa vuol dire? Come ho già detto in un altro video, quando abbiamo degli incontri con degli animali, che non siano il gatto del nostro vicino, ma animali che normalmente non vediamo, possono, da un punto di vista sciamanico, rappresentare un messaggio che l'universo ci sta mandando. Ma quindi un'amantide religiosa che messaggio ci può mandare? Partiamo dal nome. Viene chiamata amantide religiosa per la posizione eretta e le zampine che sembrano quasi due mani in preghiera. Questo, così come il colore albino tendente al bianco, può richiamarci a una connessione spirituale. Il bianco è legato alla purezza, alla sensibilità, all'illuminazione, eccetera. Così come questo aspetto religioso. Quindi parla di una connessione con lo spirito. Un altro aspetto importante dell'amantide religiosa, che tutti sappiamo, è che quando ha terminato l'amplesso, taglia la testa al suo compagno. E quindi qua ci parla di un'energia femminile molto forte, che sa abbassare a se stessa. Quindi di una persona, o comunque un'energia, che è indipendente, che non ha bisogno di nessuno, ok? E anzi, che è capace di utilizzare ciò che l'universo gli mette a disposizione per raggiungere i propri obiettivi senza troppi problemi, ok? E questo, ovviamente, come messaggio ci può parlare sia di un lato che dell'altro. Cioè quindi di noi come esseri estremamente indipendenti, oppure di persone che hanno bisogno di sviluppare quell'indipendenza. Altre caratteristiche, invece, sono legate, per esempio, all'essere un insetto cacciatore. E si dice che si è estremamente paziente, rimane immobile per lungo tempo per poter catturare la propria preda. E quindi un senso, un significato, un valore, un simbolo legato all'amantide religiosa è proprio quella dell'attesa, del saper attendere, di non avere fretta, perché comunque sa di raggiungere il proprio obiettivo. Normalmente poi le amantide religiose utilizzano la mimesi. Questa è una capacità che serve sia per proteggersi, ma anche per potersi muovere in quella predatoria in assoluta tranquillità. Quindi ecco, queste possono essere tutte caratteristiche che possiamo prendere in considerazione. Magari in questo momento, questa persona che mi ha fatto questa domanda, sta vivendo un momento particolare della sua vita, dove ha bisogno di stare calma, di portare pazienza, di connettersi col divino, ma allo stesso tempo rimanere mimetizzata, aspettando il momento opportuno per raggiungere il proprio obiettivo, perché quello comunque arriverà. E ricordare, soprattutto se questa persona è una donna, di connettersi con la propria forza interiore, con la propria indipendenza, con la propria capacità di farcela senza il bisogno di nessuno.